Io legando questa domanda qua, diceva che c'erano delle forme di protesta che rompono con la legalità e che certe cose vanno chieste senza permesso, siccome lei è stato consulente giuridico sia del Notario sia del Teatro Valle, e il Teatro Valle sono due realtà che spesso sconfinano nell'illegalità, abbiamo visto il caso della CIA, prevenso che secondo me fanno bene, però esiste un discrimine, un criterio per poter capire quando esiste un'illegalità giusta e un'illegalità ingiusta? Certo, il criterio e la distinzione è molto forte tra il Costituente e il Costituito, io non penso mai che un atto di lotta per i beni comuni che punta alla trasformazione istituzionale sia un atto illegale, è un atto costituente, rompe con una legalità costituita che noi riteniamo essere, dico noi perché mi sento parte, non sono un giurista neutrale, io sono un giurista assolutamente militante, per cui che noi riteniamo essere, come dire, scollegata rispetto a degli apparati assiologici anche presenti nella nostra Costituzione, in valori di umanesimo, in valori di rispetto della natura, in necessità ecologiche di lungo periodo, insomma nella visione di un mondo un pochino più bello, un pochino più sostenibile poi alla fine, quindi c'è questa legalità formale che sostanzialmente porta avanti un disegno di società che non soltanto è distruttivo dal punto di vista umano, sociale e naturale, ma è anche slegato da qualunque apparato valoriale della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra, per dire, ci sono una serie di valori costituzionali talmente forti, talmente sfacciatamente violati dalla prassi costituita che la resistenza non è più soltanto un diritto di resistenza, ma un dovere di resistenza. Voi sapete che il diritto di resistenza è una categoria del politico estremamente importante, che trovi nella riflessione a partire da Machiavelli in avanti in tutta la tradizione politica e culturale europea, ma nasce come dovere di resistenza, cioè nella tradizione calvinista, nella tradizione della riforma, il diritto di resistenza era il dovere delle magistrature inferiori di resistere a tutela del loro popolo quando l'esistenza stessa del popolo fosse minacciata da strutture di potere altre. E si articola con un importantissimo al periodo dei giuristi Ugonotti, per esempio. I giuristi Ugonotti elaborano moltissimo il dovere di resistenza collettiva, i criteri della... Quei criteri che sta chiedendomi lei, cioè il criterio della resistenza giusta rispetto alla resistenza non giusta, è un dibattito affascinante, profondissimo ed eterno, che non puoi assolutamente racchiudere in quel legalismo da quattro soldi, per cui quelli lì sono contro la legalità, il proprio legalismo come dire da Giancarlo Caselli, mi viene da dire, ecco per intenderci. Quel tipo di discorso lì è un discorso che nulla a che fare con la ricchezza dell'esperienza giuridica. E la cosa interessante è che con l'età dei lumi, col Settecento, sostanzialmente il dovere di resistenza, che era un dovere collettivo, viene individualizzato nel quadro dell'individualismo borghese nascente e diventa diritto di resistenza dell'individuo. E nel momento in cui il dovere di resistenza, un dovere collettivo, si individualizza in diritto di resistenza dell'individuo, l'hai preso in giro. Perché il diritto di resistenza individuale ti porta unicamente a finire in galera. Te lo danno come diritto naturale fondamentale, ma il suo esercizio, sei talmente impotente da solo contro il Costituito, che quello che ti porta a fare l'esercizio del tuo diritto di resistenza è finirtene in gabbia e non avere più nessun tipo di capacità di incidere politicamente. E il collettivo, il bene comune, l'esperienza del comune come esperienza collettiva è quella che dà forza le nostre battaglie. Cioè è la rottura radicale con una visione del mondo individualizzata e individualizzante, che è la retorica dei diritti umani, che è la retorica dell'illuminismo progressista, eccetera. Bisogna capire che quelle retoriche lì sono delle retoriche che rendono il popolo impotente. Rendono il popolo impotente. Gli mettono in mano uno strumentario formalmente giuridico e soltanto giuridico, che però ti toglie la capacità di impatto politico. Quindi in merito a quello che diceva lei, in che modo quindi la comunità può concretamente partecipare ai beni comuni? Che cosa può fare concretamente? La comunità già partecipa per i beni comuni. Guarda, io in questi ultimi tre anni ho girato questa lunga penisola davvero in lungo e in largo a parlare di beni comuni, a predicare, a fare discussioni, incontri, situazioni come questa o simile a questa. Con sempre, centinaia e centinaia di persone che già vivono i beni comuni. L'altro ieri sera ero a Dancona e abbiamo fatto un incontro su beni comuni e democrazia partecipata e c'erano 11 realtà locali martigiane che sono in lotta su vari fronti, tutti racchiudibili nell'idea di beni comuni. Questo succede ovunque nel paese. Quindi quello che può fare la comunità è prima di tutto esistere come comunità. C'è riconoscersi come collettivo. Dobbiamo recuperare tutti la nostra esperienza al di fuori di un'esperienza narcisistica individualistica nel quadro viceversa di una declinazione del nostro esistere in gruppo. Che tra il resto è anche molto più divertente. Perché esistere come individui, passare tutto il tempo a mirarti davanti allo specchio e poi andare a comprarti dei beni sul mercato è un po' miserabile come prospettiva di vita. Invece lavorare per la costruzione di collettivo, per la costruzione di soggettività nuove, condividere, eccetera, è un'esperienza anche dal punto di vista del senso profondo dell'esistere molto più importante. Ed è questo che produce il pensiero critico. Il bello del pensiero critico è che ti fa immaginare un mondo che si libera di tutti questi paraocchi, ma la comunità opprime i diritti, no? La comunità è una comunità inclusiva, una comunità identitaria, bisogna fare attenzione perché la comunità è oscurantista, medievista, eccetera, eccetera. Non necessariamente per nulla il fatto che ci siano state nella storia e che ci siano nella storia delle comunità escludenti e fortemente identitarie, anche gerarchiche, non finisce che non significa affatto che l'esperienza collettiva non sia un'esperienza in realtà di profonda emancipazione. Cioè noi esistiamo e ci emancipiamo relazionalmente, da soli ci guardiamo solo allo specchio.